Il giudice ha deciso. Il 18 ottobre, davanti ai giudici della prima sessione penale, sarà il dibattimento ad accertare se è stato Gianluca Scaccia, il 33enne di Canicattì, fermato il 26 giugno dell'anno scorso per l'accusa di tentato omicidio, a sparare al 31enne Vincenzo Curto, ex marito della sua nuova compagna. Nella tarda mattinata, il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto il rinvio a giudizio, come chiesto dal Pubblico Ministero Alessandra Russo. Scaccia, durante l'interrogatorio di convalida, si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma aveva rilasciato delle dichiarazioni spontanee con cui si discolpava, dicendo che non era stato lui a sparare all'indirizzo dell'ex marito della propria compagna, colpito alla gamba e al torace. Su questa tesi ha insistito anche il suo difensore, l'avvocato Angela Porcello, che ha sollecitato il giudice ad emettere una sentenza di non luogo a procedere. Le dichiarazioni della vittima non sono attendibili, Scaccia non aveva alcun motivo per sparare a curto, ha detto il suo difensore. Nelle scorse settimane, il GIP, Alfonso Malato, ha disposto la sostituzione della misura cautelare su richiesta del difensore, l'avvocato Porcello. Il legale aveva sostenuto che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate in maniera diversa, anche in considerazione del fatto che la presunta vittima non risiede più a Canicattì. La decisione comunque non ha effetti pratici, perché nelle scorse settimane è diventata definitiva la condanna a un anno di reclusione per alcuni episodi precedenti di violazione delle misure di prevenzione, quindi Scaccia resta in carcere.